Teneva nel bagno di casa una granata di fabbricazione bulgara, la polizia sta indagando per capire cosa ne facesse Agin Lena, 27 anni, cittadino albanese di professione decoratore. Quali fossero le sue intenzioni perché l'albanese che è stato arrestato detenesse il pericoloso ordigno nell'appartamento di via Caffasso. Secondo i tecnici della questura l'arma da guerra se urtata poteva esplodere con grave pericolo anche per gli abitanti del condominio. Gli agenti della squadra mobili sono arrivati al detentore della bomba a mano attraverso un'indagine tuttora in corso su un traffico di armi. Ennesimo colpo la scorsa notte dei ladri specializzati nel saccheggio di casseforti. Questa volta hanno forzato la concessionaria di proprietà del noto pilota automobilistico Dindo Capello. Sono entrati negli uffici dell'Audi Zentrum in corso Alessandria, hanno forzato la cassaforte ed hanno portato via circa 500 euro. E ieri sono stati condannati gli autori della rapina alla Banca d'Alba. Salvatore Pirino, 42 anni di asti, è stato condannato a due anni e dieci mesi. Il complice Pietro Basile ha due anni di reclusione. Nel luglio dello scorso anno armi in pugno avevano assaltato in pieno centro la filiale della banca, raffando circa 3.000 euro. Fuggendo a piedi erano però stati rincorsi, prima da un addetto alla sicurezza e poi dai poliziotti di una volante della questura che li avevano bloccati in un bar. E per gli appuntamenti ricordiamo che a Buttigliera d'Asti si tiene la seconda tappa del circuito ritorno alla fiera con la manifestazione, le contrade del Freisa. A D'Asti invece ha preso il via oggi la 59esima edizione della fiera regionale, l'orario nella struttura dell'ex mercato orto frutticolo di Corso Venezia dalle 14 alle 24 con ingresso libero. A Bubbio invece c'è la 92esima edizione del Polentone, domani prevista la rievocazione storica e verso le 17 la distribuzione gratuita di polenta, salsiccia e frittata. Da domani, primo maggio, inizia anche la stagione di Castelli Aperti, sono oltre un centinaio le dimore storiche dell'Astigiano, del Monferrato e delle Langhe che fino ad ottobre ogni domenica aprono le porte per le visite. Guidate con Castelli Aperti si ha anche diritto ad un buono sconto sull'acquisto di prodotti in cantina da effettuare nelle cantine aperte convenzionate. Per questa domenica in provincia di Asti sono aperti i castelli di Belveglio, di Castellalfero, di Cisterna, di Burrio, di Colcavagno e di Piea. Sono anche aperti il Museo Diocesano, Palazzo Mazzetti e la Torre Troiana. E da oggi qui ad Asti sono ufficialmente aperti anche i festeggiamenti patronali che occuperanno con le iniziative legate al Paglio anche tutto il mese di maggio. domani, primo maggio alle ore 11 nella chiesa dedicata al Santo, si tiene la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Asti, Monsignor Francesco Ravinale, mentre alle 21 in Piazza San Secondo si terrà il concerto della banda cittadina. Infine segnaliamo che saranno almeno 200 gli astigiani che scenderanno a Roma per vivere domenica prossima la grande festa per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. Affronteranno due notti in treno o in Pullman, si ipotizza che il grande evento porterà a Roma due milioni di pellegrini, molti passeranno la notte alla diaccio per seguire la proclamazione di santità per il grande Papa polacco Karol Wojtyla. E con questo da Asti è tutto, grazie per l'attenzione, restituiamola lì nello studio.